E quando hai finito di fare i compiti, è ora di giocare con i tuoi giocattoli preferiti! Dobbiamo parlare subito! Com'è successo? Hai preso una F nel compito di matematica! Pensavo fossi una studentessa modello! Dobbiamo prendere provvedimenti! Niente più giocattoli, finché i tuoi voti non saranno migliorati! Mia figlia non può essere un fallimento! Non nella spazzatura, per favore! Un attimo! Ce l'ho fatta! State bene! Devo nascondervi! Qui saranno tutti al loro agio! Dovete stare tranquilli! Dove siamo? Questo è il mio territorio! Strano, non c'è niente qui! Prendi, questo è per te! Regali celestiali! Sciocca, è un messaggio! Leggiamolo! È un manuale! Design interessante! La mia casa sarà epica! Questo lo vedremo! Avrete bisogno di questi modelli per iniziare! Evviva! Presto avrò una casa! Vediamo chi riesce a farla più in fretta! Chi? Tu? Ma non farmi ridere! I miei artigli si occuperanno di questo compito in un secondo! Non hai alcuna possibilità! Facciamo vedere a questa palla di pelo che comanda! Forza! Non ce la faccio! Cosa? Così in fretta? Ci sono problemi laggiù? Sbrigati! Non posso perdere! Non funziona! Ho dimenticato di affilarlo! E i miei artigli invece sono sempre affilati! Vediamo come te la cavi ora! Ho vinto proprio come previsto! Wow! Che lucina! Che bella! La prendo! Bravo gattino! Ora mi aiuterai! Dove vai? Ti ho vista! Eccola! Non scapperai! La prendo! Ehi! Torna qui! Nessuno può scapparmi! Questo lo pensa lei! Oh! Quanto fumo! Non riesco a respirare! Mi hai ingannato! Non è giusto! Grazie per l'aiuto! Sono d'accordo! I tuoi artigli sono davvero affilati! Hai risvegliato il leone che è in me! Ora vado a caccia! Modalità predatore attivata? Richiudi! Lo fa freddo! Solo un secondo! È ora di neutralizzare quel cane! Ho capito! Ci penso io! Spero che il mio regalo ti piaccia! Il pranzo è incluso! Auguri per un atterraggio morbido! Odio volare! La prossima volta prendo l'autobus! Ho vinto! Mi prude tutto quanto! Dovresti mangiare più verdure? Ma io amo la carne! E io amo te! Saremo amici! Aiuto! Vattene subito! Perché mi prude tutto? Non ti distrarrò, ma... Che diavolo succede? Ops! Sembra che sia passato! Devo sistemare tutto! Ora la mia casetta sarà morbida! La chiave è fissare tutto correttamente! Sarò al caldo e sarà bellissimo! Ora basta bordermi! Presa! Non saremo mai amici! Siamo troppo diversi! Questa è una vera aggressione! Ti denuncerò al tribunale delle pulci! Lamentati quanto vuoi! Catonope è andata avanti! Non è troppo tardi per arrendersi! Sì, certo! C'è un sacco di materiale qui! Devo fare in fretta! Mettiamoci al lavoro! La mia pelliccia aiuterà! Dovrebbe bastare! Sbrighiamoci! Potenzieremo la mia casa! Aggiungiamo una protezione dal vento e dalla pioggia! Vediamo com'è andata! Miau! Un attimo! Come ha fatto quella coda pulciosa a raggiungermi? Io sto benissimo! E presto chiamerò gli ospiti per l'inaugurazione! E tu non sarai invitata! Non sei la benvenuta! Non verrai comunque! La tua casa è brutta! È una discarica! Ma che stai facendo? Che pipona! Cos'è questo rumore? Che sta facendo? Continuiamo a costruire la mia casa! Ha bisogno di una sega! Guarda che mi è venuto in mente! Attenta! C'è mancato poco! C'è puzza di materiali da costruzione! C'è un intero rotolo! A proposito di fortuna! Chi è la più forte del mondo? Lo sanno tutti che è Dog Day! Come voleva si dimostrare! Ora serve un po' di pelliccia! Ma dove la trovo? Certo! Qui ne è rimasta un po'! Proprio quella che mi serve! Guardate com'è bella! Catnap sarà gelosa! Ehi! Hai spirciato la mia roba! L'idea delle orecchie era la mia! L'hai solo copiata! E ciù! Ma certo! Serve un naso! Ma con che lo costruisco? Non c'è altro materiale qui! Oh! Sta piovendo! Questa non è acqua! Adoro lo slime! Sembra pericoloso! Attenzione! Non so di me! Beh! Catnap ha paura di un po' di pioggia! Molto divertente! Questo è esattamente ciò che mi serve per il naso! Devo prendere questa cosa! Sembra plastilina! Il naso però deve essere nero! Ecco! E ora lo modello nella forma giusta! È quasi come un naso vero! E questo è il tuo posto! Come va? Sciocco di pulci? Il naso è quasi pronto ma... Di solito è un po' bagnato! Ci sono! Questa è una grande idea! Un vero trucchetto all'adoccai! Aggiungiamo qualche goccia! L'effetto naso bagnato è pronto! E il tocco finale! Devo solo dargli il giusto colore! Evviva! Il mio naso è migliore del tuo! La mia bella coda soffice! Il mio tesoro! Ops! Lo sapevo! L'hai fatto apposta! La pagherai per questo! Ma è stato un incidente! Non ci credo! Devo aiutarle! Oh no! Questo non va bene! Le aiuterò! Babi Berag vai lì e cerca di farle riconciliare! In bocca al lupo! Credo in te! Vai! Oh! Che atterraggio! Potevi darmi un paracadute? Che succede qui? Oh! Che casetta interessante! Darò un'occhiata più da vicino! Ho una soluzione progettuale diversa! Sarà meglio con un orecchio solo! Aspetta, Caton Up! Hai degli ospiti! Oh! Bandalo! Ehi, orso! Puoi incontrare i miei artigli! Non puoi avvicinarti a me! Che ne è della tua ospitalità? Questo naso qui è inutile! Di che naso stai parlando? Ora ci penso io! Lascialo stare! Non sono stato io! È tutta colpa di Caton Up! Gliel'hai detto tu? Ma certo che no! Vuole farci a pezzi! Che ne dici di legarlo? Ok! Di che state bisbigliando voi due? Beh, se proprio vuoi saperlo! Aiuto! Ora stai zitto! Ma che volete fare? Sei o no un fan delle giostre? Hai vinto un giro gratis! Ti prendo! Scusa, è stata colpa mia! E ora tocca... Gli occhi! Ops! Questo va qui! E questo qui! Aggiungiamo un po' di realismo! Più colore nero! Stop! Manca qualcosa! Ma certo! Servono le pupille degli occhi! Ehi! Puoi stare un po' più attento? Ora tagliamo! Con mano leggera e molta attenzione! Non dobbiamo rovinare nulla! Non abbiamo più bisogno di questo! Ottimo lavoro! È ora di installare un paio di telecamere sulla casa! Minimizzazione perfetta! Ora potrò controllare tutto! Telecamere al posto delle pupille! Devo ammettere che è un'ottima idea! Ora guarda come riesco a vedere... Effetto visione notturna! Uh! Che sbruppona! Basta con gli insulti! Oh! Me ne sono completamente dimenticata! Ho bisogno di denti! So come fare! È ora di rinfrescarsi! Adoro le gomme! Il gusto è fragola! Il mio preferito! Oh! I denti sono pronti! Benvenuti a casa! Sono troppo piccoli! Ma non è un problema! Ho una gomma gigante qui! Questa misura è perfetta! Non ho mai visto niente di simile! Sono una campionessa di gomme da masticare! La migliore tra gli Smiling Critters! Sta per scoppiare da un momento all'altro! Non sono un genio! Tu, Doc Day, non sai farlo! Ah! Sentila! Ti piace il nuovo sorriso? Posso raccomandarti il mio dentista! È stato difficile! Mi fa male tutta la mascella! Però ce l'ho fatta! Le dimensioni sono perfette! Oh! Orribile! Sono stanca! Ma che ha fatto? I cani non hanno quei denti! Oh! Grazie! Questa sarà la lingua! Ehi, Doc Day! Guarda! Tu non ce l'hai questa! Ma sta dormendo! Non lo sai chi è da maleducato a ignorare qualcuno che si vanta? Carne in scatola! Si sta davvero dormendo! È la mia occasione! Scusa, cagnolino! Niente di personale! È contro le regole! Tu ci sei già stato! Ora tocca a te, coniglietto! Buona fortuna! Non davanti a me! Non si distruggono le case degli altri! È vietato! E tu che saresti? Io sono la legge! E ora ti faccio una multa! Questa è una prova del crimine! Tieni! Dieci flessioni per punizione! Vostro onore, per favore, abbiate pietà! Il verdetto non è soggetto ad appello! Ma non è giusto! Grazie per l'aiuto! Vostro onore, procedete con l'esecuzione! Bene! Lo farò! Uno! Più energia! Più energia! Oh! Ha dormito bene! Questo chi è? Tieni talloni a terra! Più in basso! Non voglio disturbarvi! Padrona, la mia casa è pronta! Dai un'occhiata! Orrà! La giustizia ha prevalso! Anche io ho finito di costruire! Non è meglio la mia? Lasciate che sia la legge a risolvere questa disputa! Oh! Non ti deluderò! Grazie per la fiducia, vostro onore! Siete stati entrambi bravi! Oh! Che stai facendo? Non avevo detto niente giocattoli! Fermati! Ti romperai le loro case! Torna subito alla tua lezione! Non voglio studiare matematica! Verrò a controllare tra un'ora! I miei poveri animali! Vi troverò una nuova casa! Resterete qui! Ma non scapperete, vero? Oh! Lasciaci andare! Dove siamo? Ehi là! Ora siete i miei prigionieri! Ciao! Ciao! Ecco il vostro rifugio! Tenete lontano il freddo dei mostri! Miss Delight ci ha regalato una casa! È carina! Non sa di niente! Sembra nuova! Un attimo sento qualcosa all'odore di cani bagnati! Che schifo! Sparisci! Certo! Ti sei perso! Mettiti in viaggio, amico! Devi scegliere da che parte stare! Scelta giusta! Che ti guardi! Un gruppo di perdenti! Ho una sorpresa per te! Prendi! Hoppy, preparati al mio tre! Questo è mio! Dallo a me! Ti morderò! Lascia che ti aiuti! Sono forte! Ma io sono più forte! Dai, Hoppy! Mettici un po' di impegno! Forza! Ho un'idea! Prendi questo! Prendi questo, gatto! Oh! L'abbiamo presa! Siamo a cavallo! Non è giusto! Non sapete neanche a che cosa serve! Sì, che lo sappiamo! Serve per pitturare! Urrà! Dipingeremo la casetta! Ma che stanno! Psst! Bobby! Andiamo! È interessante! Non riesco a capire niente! Guarda! Hai visto? Forza! Ancora un paio di gocce! Ce l'abbiamo fatta! Possiamo iniziare a dipingere! Wow! Che bel colore vivace! Hanno la vernice! Faremo le cose a modo nostro! Seguimi! Questi cerchi rimarranno bianchi! Ottima idea! Verrà benissimo! Wow! Però manca ancora qualcosa! Servono delle decorazioni! Ma dove? Attenzione! Unge! È proprio quello che ci serve! La appenderò proprio qui! Spero solo che non mi cada sul piede! Urrà! Ce l'abbiamo fatta! Ma che stanno facendo quei due? Tienilo fermo! Avanti! Il tetto sarà verde! Devo solo trovare la vernice! Interessante! Possiamo mangiarne un paio! Sembrano buoni! No, Bobby! Ci servono per il lavoro! Versiamoli tutti! E adesso? Accendiamo il frullatore! Ma si sta muovendo! Uuuuuh! Tienilo stretto! Pronto! Uuuuh! Vediamo cosa abbiamo qui! Uuuuuh! Wow! Il colore è davvero super! Turchese celeste! Un colore veramente vivace e molto molto cool! Oh! Hanno preso la vernice questi diavoli! Il tocco finale! Fatto! Troviamo qualche decorazione! Uuuuh! Guarda! Una bella mela! Eccola! Proprio quello che ci serve! Il tuo posto è qui! Decoriamo il tetto con questa! Ottima idea! Facciamolo! Bella e cool! È perfetta! Come sta la mia pianta preferita? Un gadget fantastico! Fa anche il ronzio! Oh! Buono! Hanno anche il miele! Ne voglio un po' anch'io! Ho un'idea! Gustoso! Mimetizzazione attivata! Muoviamoci in modo discreto! A quanto pare ho veramente fame! Anch'io! Ho io la pancia piena! Lasciamone un po' per cena! Questo è nostro! Sono così insistenti! Andate via! Ma dove è andato? Questo è per il tetto! Facciamolo giallo! Scuotiamo bene l'alveare! Prenderemo del miele! Povere api! Ci sono! Guarda! Guarda come sono belle! Ottima idea! Grazie! Aggiungiamo una finestra! Ehi! Che vuoi? Cuccioli! Cuccioli! Volete un osso? Mangiatevelo voi! Io lo voglio! Lo voglio! Tieni duro! Lo vengo a prendere! Bravo cagnolino! Battì cinque! Non posso gestire tutto questo da solo! Volevi fare una finestra? Ora fatti da parte! Ok! Facciamolo! Spero che nessuno si faccia male! Un lavoro di precisione! Super! È venuta benissimo! Smarty? Ehi là! Dammelo! Dove sei stato? Avevamo bisogno di porte e finestre! Oh! Osso! Terribile! Ma non c'è il vetro! E senza vetro farà freddo e sarà scomodo! E... Se facessimo dei vetri colorati... Ma dove li prendiamo? Fammi pensare! Possiamo usare i nostri talismani! Semplicemente fantastico! È bellissimo! Però serve ancora una porta! Giusto! Dove possiamo trovarne una? Ecco la vostra porta! È pesante! Grazie Miss Delight! La metteremo al posto giusto! Adorabile! La nostra casa accogliente è quasi pronta! Mani in alto! Siete solo fortunati! Lo vuoi? Toglimelo di torno! Smettila! Lo vuoi lanciare? Ho un'idea migliore! Miam miam! È un osso così buono! Un vero e proprio banchetto! Sto per piangere! Sto per piangere! Basta con le lacrime! Siamo già in ritardo sulla tabella! Abbiamo bisogno di finestre e porte! Sorridi! Pico! Pensa! Pipensa! Avanti! I conigli hanno denti forti! Sì! Questa è un'idea! Fai attenzione! Manca l'ultimo pezzo! Ce l'abbiamo fatta! Ma senza il vetro sono solo buchi nel muro! Come possiamo fare? Fammi pensare! Creiamo finestre come le loro! Un gioco da ragazzi! Finestra pronta! Ehi! Quella era una nostra idea! Ce l'abbiamo fatta! Urrà! Perdenti! Ora vi faremo vedere! Hai visto le loro facce? Molto divertente! Solo un attimo! Ora dobbiamo capire cosa fare della porta! Prendete! Proprio quello che ci serviva! Grazie mille! Iniziamo ad installarla! Colleghiamo le due metà! La casa è quasi pronta! Perché mi fissi sacco di pulci? Cos'è quella a fare? E' interessante! Lo voglio! Cut-n-up! Smettila! E' tua se vuoi! Aspetta! Questo no! Beh! Lasciamo che corra! Mentre noi finiamo la casa! La vittoria sarà nostra! Ascolta! Piantiamo dei fiori! Io li adoro! A giavolo! Qui ne manca uno! Quello rosa va lì! Quello giallo va laggiù! Non cresceranno senza acqua! Giusto! Un regalo per voi! I fiori sono salvi! Aggiungerà un po' di fertilizzante e germoglieranno oltre! Mangiate, miei cari! Forza! Crescete! Wow! Una vera giungla! È tutto così verde e bello! Beh, avere un giardiniere non sarebbe male! Ciao, ragazzi! Abbiamo un sacco di lavoro da fare! Forza! Taglia il cespuglio! Piano! Sono un giardiniere professionista di settima generazione! Ci penso io! Ti piace questo taglio di capelli? Mi piace guardare qualcuno che lavora per me! Come possiamo infastidirli? Dammela! No! Hanno coltivato il giardino! Guarda là! Ti prendo! Mi rilasso! Grattami la schiena! Lo voglio anch'io! Cat e Nop! Abbiamo bisogno di un posto in cui rilassarci! Solo un attimo! Che cos'è? Un sasso! Facciamone un piccolo sentiero! Facciamolo! Niente male! Ehi! Poi attenzione! Salta sui sassi! C'è lava ovunque! Hai una bella immaginazione! Forse dobbiamo creare un laghetto! Prendiamo dei pesci e delle anatre! Ma avremo bisogno di acqua! È proprio quello che ci serve! Sinistra! Sì! Sì! Sinistra! Destra! Nuoteremo! Prenderemo! Poi prenderemo il sole! Il lago dei sogni! Voglio provare l'acqua! È calda! Grazie! Solo una pozzanghera! Perché sono così felici! Vorrei che ci fossi anche qualche pesciolino! Vi presento Anthony! Avete ordinato pesce? Guarda quanti! Urrà! Ho catturato questi pesci ma poi mi sono dispiaciuto! Vorrei lasciarli liberi! Forza pesci! Nuotate! Ok! Ti chiamerà Mike e tu sarai Frank! Guarda! Ci sono anche i pesci! Forse possiamo prenderne uno! Dog Day ha fame! In questo stato non sarà in grado di controllarsi! Potrebbe anche mangiarmi! E... Fai un barbecue! Questo è per te! L'ho sempre sognato! Pace e tranquillità! Addio Mike! Dammelo! Amici! Quale casa vi piace di più? La mia è di Bobby o quella di Dog Day e Hoppy? Scrivetelo nei commenti! Sai! A me piacciono entrambe! Complimenti! Siete stati bravissimi! Vi porterò dei dolcetti! Mmm! Masso alla griglia! La nostra casa è più cool! Ma siete ciechi? Ssss! Chi stai fischiando, gattino? Oh oh! Ci sarà una rissa! Wow 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 wow! Ragazzi, ora basta! Sono qui per salvarvi! Dobbiamo solo nasconderci da Miss Delight! Ho un'idea! Ora devo nasconderli dalla sorellona! Ma dove? Oh! Giusto! Buh! Non è stato un buon atterraggio! Perché ci hai fatto cadere così, eh? Sembra che gli Smiling Creators abbiano una nuova casa! Oh! Una nuova casa per noi è così spaziosa qui! Gli Smiling Creators l'adorano! Che gioia! Giù le mani dal mio angoletto! Questo è il mio! Il viola è il mio colore! Spari i scioppi! Accidenti! Catten up è sul piede di guerra! Stai lontano dal mio territorio! O ti prendo a calci nel sedere! Lasciami in pace! Oh! Un angolo verde! Finalmente ho trovato il mio posto! Sembra che vi stiate ambientando! Ora vediamo che sistemerà meglio il suo angoletto! Questo piano vi aiuterà! Oh! Pesante! Va bene! Sfida accettata! Gli Smiling Creators sono pericolosi! Gratta e Vinci! Ho capito! Carota, verdure, orecchie! Devo pensare! Tesoro, api! Facilissimo! Cuccia, osso... Vi supererà tutti! Sfida ha un solo colore! Gli animali sono d'accordo! Bene, è ora di mettersi al lavoro, gente! Qui c'è un bel cannocchiale! Che succede? Per prima cosa devo eliminare tutte le champusaglie scivoloso! Coniglietto maldestro! Che sta facendo Dog Day? La cosa più importante è costruire una cuccia robusta a tavole fastidioso! Che perdente! Ma Bob... Un intero barile di miele! Fatemi uscire! Qualcuno mi aiuti! Sono bloccato! Beh, ho un bel po' di concorrenza! Ognuno si sente migliore dell'altro! Una tavola! Proprio quello che mi serve! Giù le mani alla mia! Questa tavola era dalla mia parte! Amici, perché litigate per un pezzo di legno risolverò io il problema con il mio fulmine! Ok, ecco! Ora ognuno avrà la sua tavola! Forte, eh? Di solito atterro sulle zampe! Ops, succede! Ehi, Dog Day! Prendi! Grazie! Perfetto! Lo trasformerò in una sedia! Sono un professionista del fai da te! Passo a maneggiare le forbici con una sola zampa! Wow, l'ha fatto! Che ne pensate, eh? Wow, che bella sedia da riposo! Ehi, Hoppy! Il posto è occupato! Vattene da qui! Salvatemi, Grizzly! Selvatici all'attacco! Non sono un Grizzly! Sono solo un simpatico orsetto di peluche! Così comodo! Cosa? Ora devo lavorare sull'illuminazione! È così buio che potrei cavarmi un occhio! Bene, il mio talismano è il sole! Lo prendo e lo attacco al muro! Chissà che ne verrà fuori! E... Niente! Che delusione! Ultimi ritocchi! Fatto! Dog Day! Che c'è? Questo è per te! Wow, è enorme! Si adatta! Devo accenderlo subito! Lascia che ti aiuti leggermente a sinistra! Qui? No, più a sinistra! Ci sono! Qui? Ora abbassalo! A destra! Sei una cosa? Mangiati quel miele! Ci penserò io! Aiuto! Oh, proprio così! Super! Però manca qualcosa! Oh! Ora qui c'è luce! Ops! Oh! Troppo luminoso per un essere notturno! Oh! 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 Bobby e Dog Day stanno decorando così bene i loro angoli! E adesso che faccio? Oh! Ci sono! Piantiamo tutto con delle piante! Un sacco di freschezza e ossigeno! Bene! Seminiamo! Oh! Bene! Tutto il pacchetto fatto! Ora hanno bisogno di essere annaffiati! Snip! 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 No! Le mie lacrime non bastano! Che sfortuna! Dove posso trovare del liquido? Hoppy! Ho un regalo per te! Prendi! Wow! Appena in tempo! Grazie Alice! Ora il mio piano funzionerà! E avrò l'angolo più bello, più verde e più fantastico! Oh! Wow! È bellissimo! Hoppy, sei bravo! Questa rosa ha un profumo ottimo! Ora dovrò lavorare al giardino! Mettiti al lavoro, coniglietto! Io nel frattempo raccoglierò il palline! Oh! Wow! Ora il mio barile è pieno fino all'orlo! Oh! Accidenti! Che stai facendo, Babby? Io... Ehm... Solo niente! Fermati! Quello appartiene a me! Ok, ok! Allora prendilo! Coltiva i tuoi fiori e divertiti! E non toccare le mie rose! Preparerò un letto meraviglioso! Devo solo metterci il materasso e... Fatto! Non posso dormire su una superficie dura! Mi faranno male i fianchi! Uh! Che meraviglia! Ora mi servono solo dei cuscini! Ma è facile da risolvere! Hoppy, prestami un attimo l'annaffiatoio! Dog Day mi serve la tua gomma! Oh ma... Ho mangiato una torta di cipolle! Molto presto avrò due cuscini morbidissimi! La mia immaginazione non conosce i limiti! Sono un gatto intelligente! Wow! Un vero miracolo! Il mio piano ha funzionato! Ne ho due! Però... Sono bianchi! Che colore pallido! Come faccio a farli diventare viola? Dai! Non funziona niente! Oh! Cat Nap! Sa come aiutarti! Qualche goccia di vernice è fatto! Perfetto! Wow! Incredibile! Alice, sei la migliore! Oh! Perfetto! Devo solo aggiungere una mezzaluna! Prendiamo il mio amuleto! E spruzziamo un po' d'acqua! Oh! Wow! È cresciuta! Proprio quello che mi serve! Ora passo a rilassarmi e strigliare la mia pelliccia! Oh! Cat Nap! Sei così carina! Non riesco a contenere i miei sentimenti! Oh! Giusto! Aggiungerò un po' di amore al mio angolo! Ecco! Due cuoricini! Più cuori ci sono e meglio è! Oh! Oh! Il risultato è fantastico! Dovei che ne pensi? Cuori! Oh! Che schifo! Troppo zuccheroso! Tu non hai gusto! Ma devo risolvere urgentemente il problema della cuccia! Un'altra tavola di legno? No! Non funziona! Dog Day! Ti darò un aiutante! Il costruttore Ken si occuperà lui del tuo campito in un lampo! Dove sono? Oh! Eccoti! C'hai davvero un costruttore? Per favore aiutami a costruire una cuccia per cani! Vedi? Le mie zampe non collaborano! Non riesco a farlo! Ho bisogno di una casa come quella sul progetto! Oh! Facile! I miei attrezzi sono sempre con me! E finirò il lavoro molto in fretta! È chiaro che il costruttore Ken sa come maneggiare una sega e un mattello! Dog Day! Apri gli occhi! Il lavoro è fatto! Santi Numi! Che bella cuccia! Sembra una reggia! Oh! Grazie amico! Figurati amico! Ciao! Devo marcare subito tutto con il mio odore! Devo far capire che questa cuccia appartiene a Dog Day! Adoro lavorare in giardino! Le mie zampe sono così sporche! Un'annaffiatoio! Uno non basterà! Oppi guarda! Sarà un boom! Fatti da parte! Ti faccio un bagno! Oh wow! Alice sei sempre la migliore! Ottima idea! E la carota è matura! Ma come farò a prenderla? Oh non si muove! Cut Nap! Ho bisogno del tuo aiuto! Allora che c'è? Ok ok! Non posso fare a meno di Cut Nap! Come sempre! Ho solo 5 minuti! Sbrighiamoci! Hai capito? Ho capito! Uno! Due! Tre! Ops! Sei vivo? Sembra di sì! Ora sparisci! Spostati! Ho preso la radice! Sembra che il mio aiuto non sia necessario! Credo di essermi guadagnato un bagno di carote! La vitamina A migliorerà la mia vista e renderà il pelo lucido! Così! E tocco finale! In silenzio! In modo che i miei passi non si sentano! Mi sono fatto un bel bagno di vapore! Ma che sta facendo? Strana creatura! Vieni qui Filo! Sei mio! Vuole scappare! Davvero? È buffo che Cut Nap stia dando la caccia al filo! Comunque ecco l'intera matassa! Uh! Ora ha un senso! È un regalo di Alice! Niente di interessante! Creeremo un'ottima decorazione! Devo riordinare la mia tana! Molto meglio! Però manca qualcosa! Come questo! Ora in ordine! Appendiamo un campanellino! Perfetto! Hop hop! È ora di riposare! Uh uh! Farò uno scherzo a quel piccolo salterino! Solo shh! Uh uh uh! Chi è che vuole scherzare? Oh! Sto immaginando le cose! Oppure no! Bobby? Mio dolce tesoro! Pentola piena! Sono un orso felice! Aspetta piccolo burlone! Ti risponderò per le rime! Come osi nascondere il tuo alveare? Uh! Hoppy! Aiuto! Sono stato appunto! Questo no! Uh! Spihihihihi! Povero Hoppy! Ha bisogno di un medico subito! Ups! Atterraggio tranquillo! Cos'è successo cara? Sono stato appunto da nove! Fammi vedere! Uh! Una brutta puntura! Ma ho in mente qualcosa! Per favore aiutami a tirarlo fuori! La pompa lo aspireremo! Il dottore sta confondendo qualcosa! Hoppy si sta gonfiando come un pallone! Uh! Oh mio Dio! Fatto! Dottore il suo piano ha funzionato! Niente più punture! Uh 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 uh! Tutto fatto allora! Grazie mille dottore! Rilassiamoci! Ups! Il mio stomaco non è felice! Ho fame! Ho sentito dire che la carne di coniglio è ottima per un carpo che sta crescendo! No no no! Dog Day non osare! Prendi la tua merenda! Uh! Adoro la carne d'anatra! È da un po' che non assaggio il pollame! Che vicino assettato di sangue! Non poteva limitarsi a mangiare le karate! Conserverò gli avanzi per un giorno di pioggia! Non si sa mai! Ti vedo nel mio giardino! Uh! Ho pensato di fare un salto! Cane da caccia cattivo! Uah! Ridammelo! Battilo a prendere! Ossa! Uomo! Puoi giocare! La genetica non può essere sistemata! Le creature si annoiano! È ora di giocare! Corde! Sì! Che divertimento! Sì! Le adoro! Cotton Up sta giocando con le corde ma non ha neanche gli artigli! Ehi! Ssss! Un gomitolo di lana! Tempismo perfetto! Farò un tiragraffi! Oh! Sarà una favolosa lampada! Un po' di più! Così! Evviva! Fatto! Ora non rideranno più di me! Sì! Ancora un po'! Solo così! Ah! Wow! Ok! Stavamo scherzando! Scusaci! Ora va meglio! Amici! Scrivetelo nei commenti! Quale angolo vi è piaciuto di più? A me piacciono tutti gli angoli! Avete lavorato sodo! Ups! Abby è tornata! Sì! Immagina! Una festa degli Smiling Creators! Rigorosamente per chi ha più di 16 anni! Una festa? Portami con te! Ti prego Abby! Non è possibile! Sei troppo giovane! Uh 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 uh! Un perdente! Ti supplico sorellina! Ok! Va bene! Ma prima mettiti questa! Wow! Bella maglietta! Torno subito! Uh! Ingenua questa bambina! Avanti andiamo! Allora che ne pensate ragazzi? Nooo! Nooo! Mi hanno mentito! Aspettate! Ma dove sono? Wow! Ciao! Catnap! Cranti! Smiling Creators! In carne e assa! Mary! Ora tu sei una di noi! Volete adottarmi? Ci sto! Vuoi andare a questa festa? Sì sì! Lo voglio! Ottimo! Ma è solo per le adolescenti sopra i 16 anni! Oh oh! Ops! Va tutto bene! Cranti! Tocca a te! Potrebbe formicolare un pochino! Oh è così strano! Wow! Ora sono un'adulta! Finalmente! I suoi vestiti non vanno bene! Hai ragione! Questo è il migliore! Provalo! Wow! Bello! Ora sembra un peluche! Ora sì che sei pronta per la festa! Abby e le sue amichette saranno così gelose! Oh che bella festa! Aspetta! Quello è... Sorpresa! Avresti dovuto vedere le vostre facce! Salve ragazze! Quella è Mary con gli Smelly Creators! Non capisco! C'è qualcosa che non torna! La mia prima festa per adulti! Che figata! Dai! Bagliamo! Lo sapevo! Catnap! Andiamo! Abbiamo una chiamata importante da fare! Avanti e chiamala! Pronto! Bobby è tutto pronto! Sarà presto lì! Bene, bene, bene! Le cose stanno andando come previsto! È evidente che hanno in mente qualcosa! Questa festa è fantastica! Bagliamo fino all'alba! Scusate il ritardo! Ciao! Uh! Smettila! Ci cascano sempre! Ok, sei libero! Oh! Lo sapevo! È uno dei tuoi scherzi elettrici! Ops! Questa è la nostra amica Mary! Ciao! Piacere di conoscerti! Eh, non sono una persona da stretta di mano! Ragazza intelligente! Vuoi scoprire di più su di noi? Ci puoi scommettere! Allora vieni a casa nostra! Uh! Un paio di mosse! Uh! A PR della pista da ballo! Ciao ragazzi! Ops! Ci stavi spiando? Aia! Oh! Ti sta bene! Molto profondo! Non è una sensazione piacevole! Oh! Siamo i primi! Qui è dove viviamo! È così carino qui! Uh! Perché correte sempre? Oh! Questa è una lepre! Benvenuta nella tua nuova famiglia! Grazie! Allora, diamo un'occhiata alla nostra promo! Mettiti comoda! Sei pronta? Buona visione! Guarda! Sta iniziando! Sono Hoppy Opska! Adoro le attività! E io sono Bubby B-Rug! Crafty Corn! La creatività è tutto per me! Catnap! È il tuo servizio! Posso pullare chiunque! Siamo gli Smiling Creators! Oh! Fantastico! Ora abbiamo ancora di più amici! Allora quale famiglia scegliereste? Gli Smiling Creators? O mia sorella maggiore Abby? Ehi Mary! Vuoi disegnare? Adoro disegnare! Bene! Tu disegna! Noi ci allontaniamo per un minuto! Ma torniamo subito! Mi chiedo dove siano andati! Stanno preparando una sorpresa per me! Vado a controllare! Bene! Ce l'abbiamo quasi fatta! La nostra idea brillante funzionerà! Molto presto! L'ingenua Mary sarà... Piggy Piggy! Stanno preparando delle caramelle! Cosa? E resterà una Smiling Creators per sempre! Oh sciacchini! Diamoci da fare! Cosa? Non voglio diventare Piggy! Che devo fare? Forza Creatures! È ora di finire la nostra invenzione! Devo uscire di qui in qualche modo! Vedo una porta! Oh! È chiusa a chiave! Ma che cos'è? Questo può essere un indizio! L'ho già visto da qualche parte! Pensa Mary! Pensa! Bene! Eccola! Ho la chiave! E ora corriamo! Più veloce è meglio è! Non riesco ad aprirla! Amici aiuto! Ho bisogno dei vostri like per aprire la porta! Sì! Ancora un po'! Ci siamo quasi! Sì! Ora dovrebbe funzionare! Grazie ragazzi! Beh! Ha funzionato! Ma che diamine sono occupato! Beh! A dire il vero mi dispiace! Vattene! Oh! Oh! Ho sbagliato porta! Mary! Non mi va affatto di andare lì! Ma non ho scelta! Vuoi ordinare del cibo? Scegli quello che preferisci! Vai! Non lo so! Oh! Non sarebbe male fare uno spuntino! Beh! Voglio la pizza! Ok! Ups! Sono nel posto giusto! Sì! Assolutamente! Saluti! Ecco la vostra pizza! Portala lì! Certo! Si è guadagnato una buona mancia sorridendo in quel modo! Ciao! La tua pizza! Aiutami per favore! Eh! Di che stai parlando? Ti spiegherò tutto dopo! Ma fai silenzio! Buona fortuna! Oh! Sorno presto! Ecco la tua mancia! Grazie! Bene! Come sta la nostra Mary? Ti piace la pizza? Ehi! Ma dov'è Mary? Catnap! Oh! Mi hai chiamato? La ragazza ha capito tutto! Oh! Prendiamola! Ci siamo! No! Non pensare mai più di poter scappare! Oh! Aiutatemi! Oh! Oh! Davvero? Starà scherzando, vero? Salvami! Dove pensi di andare? Tu rimarrai qui! Torna indietro! Mi scuso per la confusione! Va tutto bene! Ci vediamo! Non capisci? Ti piacerà essere una Piggy? L'importante è non diventare come Huggy Wuggy! Non volevi essere uno di noi? Prendi questo, traditore! Presto, grugnerai e sorriderai! Non lo farò! Hoppy, dobbiamo finire la pistola! Lascia stare quel sacco da box! E tu? Aspetta qui! Aspetta qui! Aspetta qui! Aspetta qui! Aspetta qui! Aspetta qui!